Il suo nome era Pezzettino. Tutti i suoi amici erano grandi e coraggiosi e facevano cose meravigliose. Lui invece era piccolo e di sicuro era un pezzetto di qualcuno, pensava, un pezzetto mancante. Molto spesso si chiedeva di chi fosse il pezzettino e un bel giorno e dici se di scoprirlo. Scusa. Chiese allora quello che corre. Perché sono il tuo pezzettino? Come potrei correre se mi mancasse un pezzetto? Rispose, quello che corre, piuttosto sorpreso. Sono il tuo pezzettino, domandò con la forza. Potrei essere così forte se mi mancasse un pezzetto? Fu la risposta che ottengo. E quando quello che nuota è emerso dalle onde, Pezzettino rivolse alla stessa domanda. Non potrei nuotare se mi mancasse un pezzettino. rispose quello che nuota, rituffandosi sott'acqua. E' su, lassù! Gridò Pezzettino quando ebbe raggiunto quello che vive sulle montagne. Sono il tuo pezzetto? Lui scoppiò a ridere. Potrei arrampicarmi se mi mancasse un pezzetto? Pezzettino chiese la stessa cosa, a quello che vola, ma la risposta fu identica. Alla fine, Pezzettino andò da quello saggio, che viveva in una grotta. Per cosa sono il tuo pezzetto? Domandò. Credi che potrei essere così saggio se mi mancasse un pezzetto? Ma io devo asseriggi qualcuno! Gridò Pezzettino. Dove faccio scoprirla? Vai all'isola Chisono. Rispose quello saggio. Il giorno dopo, Pezzettino salpò con la sua barchetta. Dopo un viaggio lungo e burrascoso, arrivò all'isola Chisono. Era stanco e bagnato. Che strano, l'isola era un ammasso di pietre, non un albero, non un filo d'erba, ma soprattutto nessuna creatura vivente. Pezzettino camminò e camminò, su e giù, finché esausto, inciampò e cadde. E si ruppe in tanti pezzetti. Quello saggio aveva ragione. Pezzettino adesso sapeva che anche lui, come tutti, era fatto di tanti piccoli pezzi. Si ricompose e quando fu sicuro che non mancasse neanche uno dei suoi pezzetti, tornò alla barca. Premò tutta la notte per arrivare a casa prima possibile. Tutti i suoi amici lo stavano aspettando. Io sono me stesso! Gridò Pezzettino tutto contento. I suoi amici non erano sicuri di aver capito quello che Pezzettino intedesse dire, però sembrava felice. E così si diventirono felici anche loro. Grazie a tutti.